Benvenuti su Verbum Day, il vostro canale di spiritualità e fede. In questo spazio sacro esploreremo insieme le profondità della parola di Dio per farla risplendere nella nostra vita quotidiana. Ma prima ti chiediamo di iscrivervi al canale, condividi e attiva le notifiche per non perderti i prossimi video, ci aiuterai a diffondere i nostri messaggi ai fedeli. Il miracolo di Garabandal, un mistero imminente. Il miracolo di Garabandal è prossimo, ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa. Né gli angeli del cielo, né il figlio, ma solo il padre. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. San Sebastian de Garabandal è un paesino nel nord della Spagna, dove dal 18 giugno 1961 al 13 novembre 1965 la Madonna e l'Arcangelo Michele sarebbero apparsi ripetutamente a quattro bambine. Conchita Gonzales, Maria Dolores Mazzon, Mari Loli, Jacinta Gonzales e Mari Cruz Gonzales. Conchita Gonzales, nata il 7 febbraio 1949, vive a New York. Le apparizioni non sono state ancora riconosciute autentiche dalla Chiesa ufficiale, ma il 3 marzo 1962, Conchita, Mari Loli, Jacinta e Mari Cruz ricevettero una lettera anonima che si concludeva con queste parole. Non credono in voi e nei vostri colloqui con la Bianca Signora, ma ci crederanno quando sarà troppo tardi. Feliz Lopez, professore della scuola di Garabandal, intuì che il mittente fosse Sampio da Pietrelcina, cosa confermata a Conchita dalla Vergine stessa. Nel 1967, Conchita incontrò personalmente padre Pio, che vide il miracolo prima di morire, secondo la testimonianza di padre Bernardino Cennamo, frate del monastero di San Giovanni Rotondo. Inoltre, il santo volle che il velo che avrebbe coperto il suo volto una volta morto fosse consegnato proprio a Conchita. Anche Santa Madre Teresa di Calcutta confermò l'autenticità delle apparizioni e dichiarò sin dall'inizio che gli eventi erano autentici. Madre Teresa era amica di Conchita. La Madonna ha parlato del miracolo solo a Conchita, che ha scritto, la Vergine l'ha detto solo a me. Mi ha proibito di dire in cosa consisterà e potrò rivelarne la data solo otto giorni prima. Posso dire che coinciderà con un avvenimento della Chiesa e con la festività di un santo martire dell'Eucaristia, che avverrà alle 20 e 30 di un giovedì. Sarà visibile a tutte le persone nel villaggio o sulle montagne vicine. Gli infermi saranno guariti e gli increduli crederanno. Sarà il miracolo più grande che Gesù abbia fatto per il mondo, senza alcun dubbio che venga da Dio. Rimarrà un segno del miracolo ai pini per sempre, potrà essere filmato e ripreso in televisione. Attenzione ai segni dei tempi. Quando vedete il ramo del fico farsi tenero e mettere foglie, sapete che l'estate è vicina. Sapete interpretare l'aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo o al mattino. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. State pronti, perché nell'ora che non immaginate, il figlio dell'uomo verrà. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia. Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Grazie per aver guardato Verbum Day. Non dimenticare di iscriverti, mettere like e commentare con Amen per aiutarci a crescere e diffondere il messaggio divino. Che Dio vi benedica e vi protegga.